Ecco, e adesso, anche mentre in quel periodo siamo negli ultimi decenni di vita di Pompei, è fatto sì, siccome era conservato in una camera funeraria ermeticamente chiusa, scheletro, buona, provava davanti a questa bomba, che è lusso, che è lusso. Per esempio, di venire Augustati, di Platinumus, un'eserciza, 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 una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, un'eserciza, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, quasi il periodo, siamo negli ultimi decenni di vita di Pompei, e da riscola.